ciao a tutti vi faccio un video super breve in anteprima per dirvi che sono arrivati i tracker gps che ho ordinato dalla cina sono bellissimi il modello piccolo è questo qui ed è veramente piccolo ve lo metto a confronto delle mie mani è un oggettino piccolissimo che può essere nascosto pressoché dovunque c'è uno slot qui per la sim collegamento cablato in dotazione un metro e mezzo di cavo con fusibile già collegato alla spina adeguata per il montaggio abbiamo alimentazione più e meno oltre che il cavo giallo per il più sotto chiave e un cavo marrone che ci servirà se vogliamo per far funzionare un relais e comandare dei carichi esterni quindi questo è molto interessante e completo abbiamo detto alimentato con la tensione del veicolo e che integra anche una batteria tampone che servirà nel caso in cui venga rimossa la batteria del veicolo oppure questa si scarichi lui continuerà a inviare per un certo periodo il segnale poi abbiamo l'altro modello questo qualche vedete più ciccione più grosso e pesante è quasi un chilotto all'interno c'è una batteria da 20 mila milliampere ora che dichiara il costruttore di poter di permettere a questo dispositivo di restare acceso per 800 giorni in modalità risparmio energetico quindi questo oggetto qui in modalità risparmio energetico resta spento si accende esclusivamente per inviare la sua posizione poi si rispegne nella modalità di risparmio energetico più spinta gli invii della posizione si riducono a 6 al giorno quindi il dispositivo sta spento praticamente 24 ore al giorno si accende soltanto per rilevare la posizione gps ed inviarla sei volte dopodiché si spegne e con questa modalità il costruttore dichiara 800 giorni di funzionamento che si possono si riducono tantissimo se il numero di invii aumenta fino ad arrivare alla modalità tracking live quindi sempre acceso e invio continuo della posizione gps il costruttore dichiara circa sei invii al minuto 560 ore di funzionamento se non ricordo male poi magari ve lo chiarisco meglio dopo è dotato di 8 magneti molto potenti su questo lato che ci permettono di collegarlo alle superfici metalliche per esempio la scocca della macchina o del camion vi assicuro che sono molto potenti adesso io tiro forte per smontarlo e c'è questo pulsante qui che si chiama pulsante drop in che permette al gps di sapere quando viene questo viene montato quindi ogni qualvolta i magneti lo collegano saldamente ad una superficie metallica il pulsante viene premuto il gps sa di essere stato collegato di essere stato montato e quindi si può attivare la funzione che lo accende automaticamente o che ci manda una notifica e allo stesso modo si può impostare una notifica ogni qualvolta il gps venga smontato e quindi il pulsante rilasciato il gps ci manderà una notifica se qualche furbetto passa di linea decide di smontare il tracker questo ci avviserà subito altra roba sempre per velocizzare ingresso sim e slot per una memoria sd che ci permette di fare il tracking anche offline quindi possiamo montarlo senza una scheda sim lui entra in funzione fa il tracking continuo e poi la sera possiamo scaricare i dati e fare analisi quello che ci pare la ricarica si fa attraverso un cavo micro usb che è qui vicino alla lo slot per inserire la micro sim la batteria da 20.000 mAh è rimovibile quindi si possono smontare queste sei viti aprire il tracker e sostituire la batteria di conseguenza quando la batteria muore il tracker può tornare in vita con una batteria nuova è veramente un bell'oggetto tenendolo in mano si sente che è pesante e soprattutto dà l'impressione di essere solido e ben fatto c'è il marchio ce c'era anche nell'altro modello e questo tra l'altro oltre al tracking gps ha in aggiunta la funzione di tracking gsm e wifi gsm quindi utilizza il segnale delle celle gsm per fare un tracking inverso della posizione e allo stesso modo utilizza anche il segnale delle reti wifi circostanti per confrontarle al database delle mappe di google e ottenere un tracking inverso del dispositivo quindi in funzione del segnale wifi che il dispositivo rileva saprà qual è la sua posizione geografica in più il modulo wifi consente di registrare il dispositivo su alcune reti wifi o per esempio una nello specifico e permette al dispositivo di fare l'upload dei dati tramite wifi quando questo si trova nel traggio di azione di questa wifi vi faccio un esempio banale se all'interno della vostra azienda le superfici in cui i veicoli che voi state tracciando sono coperte dal segnale wifi aziendale e volete tracciare live lo spostamento per esempio di un muletto o di un qualsiasi altro dispositivo che gira per l'azienda voi non fate altro che loggare questo dispositivo all'interno della rete wifi aziendale o di una rete fatta ad hoc per il tracking dei veicoli e i veicoli che si muoveranno all'interno della copertura di questo segnale wifi potranno inviare gratuitamente il tracking il segnale diciamo i dati relativi al tracking gps anche senza aver inserito una sim card quindi questa funzione secondo me è davvero molto interessante sia in ambito industriale sia anche in ambito agricolo dove per esempio alcuni trattori potrebbero lavorare all'interno di campi che magari sono coperti da un segnale wifi e che quindi possono essere tranquillamente questo segnale wifi può essere tranquillamente utilizzato per tracciare la posizione di attrezzi agricoli o quantomeno verificare che questi dispositivi si trovino all'interno dell'area di copertura di quel segnale wifi perché ricordiamoci che la funzione associata alla rete wifi può essere anche quella del wifi fence ossia finché il dispositivo si trova all'interno di una determinata area contraddistinta dalla presenza di un segnale wifi che noi abbiamo identificato non vi sono allarmi nel momento in cui il dispositivo esce dall'area dalla wifi fence il sistema di tracking a cui noi andremo ad associare il dispositivo ci avviserà che questo è disconnesso a quel punto noi potremo tenere se abbiamo inserito una sim potremmo tenere traccia della posizione attraverso l'invio di sms o attraverso il modulo gprs oppure potremo comunque sapere che il dispositivo è uscito dall'area che noi avevamo identificato come la sua area di appartenenza avevo dimenticato un dettaglio abbastanza importante allora il t 1124 che è quello che ho in mano in questo momento questo qui piccolino ha un prezzo di 17 dollari esclusa spedizione ed esclusi costi di dogana mentre il modello a batteria che si chiama tk20 quello con la batteria da 20.000 milliampere ha un costo di 68 dollari esclusa spedizione ed esclusa dogana